c'è un signore che sta camminando per il paese quando vede al primo piano sul balcone affacciata una signora in sottana molto sexy molto bella con una bella scollatura lei lo guarda gli fa l'occhietto e poi gli facendo di salire lui prende e sale sale la signora si spoglia lui si spoglia e quando sta per salire sul letto dall'armadio esce fuori il marito tutto nudo che lo prende da dietro e se lo fa dopo un paio di giorni stessa cosa ripassa lì sotto rivede la signora sul balcone che lo guarda gli fa l'occhietto e gli facendo di salire allora lui ma stavolta c'è tuo marito no no vieni pure vieni che non c'è mio marito lui sale la signora si spoglia lui si spoglia ma dopo un minuto esce fuori dall'armadio di nuovo il marito nudo che la chiappa da dietro lui dopo un po riesce a divincolarsi e scappa di nuovo dopo tre giorni il signore ripassa sotto la palazzia e c'è di nuovo la signora sul balcone tutta sexy che lo guarda gli fa l'occhietto e gli facendo di salire e lui sì ma ma stavolta c'è davvero tuo marito dai si sincera dimmi la verità no guarda che mio marito stavolta non c'è te lo assicuro guarda ah bene e ma ma allora che salgo a fare se ti è piaciuto il mio video e vuoi vederne altri iscriviti al mio canale youtube cliccando sull'icona qui a destra ah dimenticavo è gratis